Ciao, come stai? Jennifer Adriana qui con Patrimonio Italiano TV e la media in New York. Oggi sono così orgogliosa di essere qui con Lisa Ackerman, la direttrice del Columbus Citizens Foundation. Ciao Lisa! Ciao Jennifer! Noi siamo così contenti che è il 78 anno della parata. Siamo qui per parlare un po' di questa bella celebrazione. Dimmi! Noi siamo eccitate anche, anche c'è un po' di fretta qui in ufficio perché c'è tanto da fare. Noi abbiamo una gala domani sera per celebrare i nostri borsi di studio per studenti qui a New York e poi la parata lunedì e sarebbe una bella celebrazione perché siamo lieti di stare sul 5th Avenue di nuovo dopo Covid eccetera. Ci siamo qui l'anno scorso ma c'era sempre il senso che c'era Covid. Ora sembra un po' di anticipare il futuro più normale e abbiamo tanti talenti per il red carpet e io sono molto lieta che Giada Valenta torna con noi quest'anno e anche Vanessa Racci che è una cantante qui da New York e lei ama jazz e ha questo interesse soprattutto nel jazz di New Orleans dove infatti nel 1900 erano sempre italiani e italo-americani che erano al centro del mondo jazz e abbiamo dimenticato veramente come lui prima eccetera questi cantanti della generazione della mia mamma e lei ha un nuovo disco che vengo fuori in novembre e canta qualcosa di questo nuovo disco allora sarebbe una celebrazione della parata ma anche per lei e abbiamo anche un cantante che si chiama Christian Guardino che viene da Long Island è un giovane che anche lui ha un nuovo disco quest'anno e lui è stato sull'American Idol e allora è una celebrazione per noi di avere lui qui con la parata lunedì e allora ci sono altri per esempio c'è un gruppo che si chiama Caravan di Angeli e loro sono cantanti e fanno la danza e il teatro ma questo gruppo di solito non è al pubblico ma in questi posti dove ci sono persone che non possono andare al teatro come chi è in ospitale o in un'istituzione per gli anziani e allora questo è una cosa molto speciale di avere loro con noi e ci sono altri non vorrei dire tutto perché spero che tutti sono qui con noi in persona o guardando la televisione o il live stream si guarda grazie per tutta questa introduzione sono così contenta anche io sono amici con Giarda ciao Giarda e l'ho conosciuta tanti tempi fa forse in 2007 quando ho cominciato qui per fare le parate con Al e anche la bella Vanessa e mi ricordo anche di Lina Prima abbiamo avuto Lina Prima tu parli di jazz e tutta questa cultura e la fondazione per tutti questi anni è stata veramente la centrale per tutte queste persone di cultura italiana di venire e di essere parte e celebare di questa bella cultura che abbiamo guarda io sono così orgogliosa domani sarò con te a Cipriani continuiamo le feste lunedì prima cioè dopo domenica saranno lì anche a Columbus Circle e lunedì siamo alla parata sono così contenta grazie tantissimo volevo domandarti soltanto per quest'anno la persona che voi avete preso per onorare dimmi un po' dell'esempio che questa persona ha sì certo abbiamo come Grand Marshal un uomo che si chiama Tom Galassano e lui è famoso qui a New York perché ha creato un'agenzia che si chiama Paychex che era una rivoluzione 30 anni fa perché ha cambiato come abbiamo fatto come si pagano persone in ufficio invece di fare tutto a mano e lui ha creato questo sistema elettronico e veramente ha creato un'industria perché ora tutti pagano così ma lui è un grande uomo non solo perché è un capo di industria ma anche ama fare delle cose per il civico per esempio lui è di Rochester al nord di New York o almeno nord della città di New York e proprio è fiero di stare da lì e ha fatto tanto per le università licei altre cose in Rochester sempre ha questi forti legami alla città della nascita per lui e lui ha una passione anche per un gruppo che si chiama Special Olympics e lui veramente ha fatto l'opportunità per persone che spesso sono nascoste nel mondo invece ha fatto questa piattaforma per veramente fare una luce brillante per queste persone che hanno talenti anche se hanno malattie eccetera ma che cosa bella sì sì no è un onore di avere lui come Grand Marshall perché è un esempio che si può essere una persona in finanza o in industria ma anche ha un cuore veramente forte esatto volevo dire questo che sai è molto bello avere soldi è molto bello avere una vita ricca ma veramente la ricchezza viene dall'anima hanno un'anima esatto quando tu puoi dare indietro all'altra persone veramente puoi vedere com'è bello sì e l'altra persona che ha un onore quest'anno è un uomo che si chiama Bill Amelio e lui è uguale ha avuto una carriera forte forte anche in cose elettroniche ma ha una passione per persone e ha una passione per la filantropia e ha fatto ha creato un gruppo di scopo non lucro che si chiama Caring for Cambodia e ha creato queste scuole in Cambodia per studenti che veramente senza queste scuole non sarebbe l'opportunità di avere un'educazione allora lui ha anche un cuore grande e ha pensato fuori del suo stesso esatto questo è bello e sai questo mi porta a un'altra cosa che volevo dire che dal tempo che tu hai cominciato qui che quando io ero molto orgogliosa di essere con te in quello periodo di 2019 da 2019 a ora anche di essere come un membro di questa bella associazione tu hai fatto così tante cose di tirare avanti la Columbus Foundation e volevo parlare un po' di questo prima cosa sono molto orgogliosa per tutte queste cose che hai fatto ti volevo dire auguri perché grazie veramente sono cose che tiri avanti le persone italiane ma anche le persone che sono interessate esatto del nostra cultura sì per me e queste cose insieme perché io vengo da una famiglia italo-americana la famiglia della mia mamma vengono da Sicilia e avevo sempre una passione per la mia cultura ma quando ero studentessa ho passato due anni in Italia e veramente era un periodo magicale per me era una trasformazione quando ho visto non è solamente la mia cultura ma la cultura di italiana di Italia oggi che è una cosa incredibile di capire come è forte il livello incredibile di questa cultura che veramente ha fatto tante importante cose per come come la vita è oggi con la letteratura l'arte ma anche il disegno e per me era importante quando sono venuta qui alla fondazione di dare l'opportunità a qui tutti qui hanno una passione per la loro cultura italiana ma di parlare più di come è Italia oggi e le cose e loro di fare questi legami tra il passato ma proprio il presente anche e non so è un gioia di avere questi programmi con autori o storici di l'arte e altre persone che anche loro hanno una passione per la cultura di antichità ma anche la cultura oggi è bellissimo guarda mi piace tanto quando io vedo su YouTube Columbus Citizens Foundation tutte le cose che fai tutti questi intervisti e tutti questi diversi eventi ora lo so anche con Simona con The Fairy la fata italiana sì la fata italiana per i bambini sì che ora cominci con Ace con la lingua italiana so io sono così contenta di vedere il 2022 anche per i prossimi anni tutte queste belle cose che vengono grazie e alla fine è proprio per i giovani ma anche per i borsisti alla fine è di fare questo senso di una famiglia grande che è qui in questo edificio ma anche ha legami in tutte le direzioni legami in tutto il mondo perché tutti in tutto il mondo vedono a questo e anche loro si sentono parte di questa parata di questa cultura che crei tutti i giorni Lisa allora festeggiamo lunedì festeggiamo cominciamo domani a Cipriani grazie tanto sono sempre contenta di stare con te a parlare con te grazie anche io grazie ciao ciao Italia ciao